Fibre tessili Naturali Di origine vegetale Cotone, lino, canapa, iuta, sisal, dalle foglie dell'agave sisalana, capoc, proveniente dall'interno del frutto del capoc, ramie, cocco Di origine animale Lana, alpaca, moer, cammello, seta, vigogna Artificiali Da fibre vegetali Rayon, rayon viscosa, rayon acetato, nodal Da proteine animali Lanital, merinova Sintetiche Nylon, terital, teflon, poliestere, elastan, poliuretano, leacryl Definizione Le fibre tessili sono prodotti fibrosi di origine naturale o artificiale, che opportunamente lavorati, danno origine a un filato Il filato è un insieme di fibre tessili unite e ritorte in modo da formare un filo continuo, che può essere usato per confezionare i tessuti Il cotone Il frutto del cotone è una capsula, che contiene semi ricoperti da una peluria cellulosica, bambagia, da cui si ricava la fibra tessile È coltivato in zone a clima caldo, tropicale e temperato come Cina, Stati Uniti, India e Pakistan, Grecia, Spagna Caratteristiche Idrofilo Assorbe umidità e la lascia evaporare all'esterno Resistente a usura e trazione, soprattutto quando la fibra è bagnata È un buon conduttore termico, le fibre sono cave all'interno e permettono di disperdere velocemente il calore, mantenendo il corpo fresco È biodegradabile poiché è di origine vegetale È infiammabile Gli abiti da lavoro vanno sottoposti a trattamenti al fuoco È poco flessibile Si stropiccia Si restringe se bagnato Per rimediare si aggiunge una piccola quantità di poliestere Lavorazione del cotone Il processo di lavorazione inizia con la raccolta dei semi, che vengono inseriti nella macchina sgranatrice per eliminare foglie, polvere, terra e separare da queste la fibra, che viene raccolta in grandi balle In seguito queste balle passano in un'altra macchina, che ricava segmenti di fibra lunghi qualche centimetro, a loro volta arrotolati per formare fili, che possono essere usati per ottenere tessuti Il lino Il lino è la fibra derivata dal fusto di una pianta erbacea, alta circa un metro, con piccoli fiori bianchi o azzurri, che fioriscono solo per un giorno Oltre alla cellulosa, contiene anche lignina, grassi e cere È coltivato soprattutto in regioni a clima temperato freddo del nord Europa Caratteristiche Le proprietà del lino sono simili a quelle del cotone, ma è un miglior conduttore del calore, quindi la sensazione di fresco sulla pelle è maggiore È molto resistente poiché le fibre hanno struttura tubolare La fibra è rigida e pertanto l'aspetto del tessuto è stropicciato Tipologie Lini fini, utilizzati per fazzoletti, biancheria per la casa Una tipologia di lino molto famosa e a trama fine è il battista Lini con fibre di mezza dimensione, utilizzati per i capi d'abbigliamento e le lenzuola Lini con fibre spesse e trama regolare, utilizzati per tovaglie e canovacci robusti Lavorazione Raccolta In questa prima fase la pianta è prelevata dal suolo e messa a macerare I tempi di raccolta variano in base al tipo di fibra che si intende ottenere Per esempio, nel caso si desideri una fibra sottile si raccoglierà la pianta in tempi celeri, quando è ancora tenera Più si attende e più spessa sarà la fibra Strigliatura La seconda fase prevede l'estrazione delle fibre di lino dalla pianta, a cui seguono le procedure di pulizia e pettinatura Filatura Una volta pulite e pettinate, le fibre di lino vengono lavorate con diverse tecniche per realizzare i prodotti desiderati Nobilitazione L'ultima tappa della lavorazione del lino va ad impreziosire il tessuto in base al prodotto che si vuole ottenere Si può per esempio tinteggiare il tessuto o lavorarlo per rendere più rigide le fibre, e quindi anche più resistente e tenace il prodotto in lino Vantaggi Resistente ai lavaggi e all'uso La sua composizione lo rende un tessuto a lunga durata Sostenibile La fibra è naturale, riciclabile e biodegradabile Traspirante Assorbe l'umidità senza trattenerla Termoregolatore Si adatta al clima donando freschezza o mantenendo il calore Analergico Non provoca allergie La lana La lana si ricava dal vello di pecore, capre, cammelli e lama Si ottiene tosando a mano o a macchina gli animali vivi, successivamente viene lavata e dai residui delle acque di lavaggio si ricava la lanolina, un grasso impiegato nell'industria dei saponi La lana ricavata dal dorso è di miglior qualità, in quanto è più morbida ed è composta da fibre sottili resistenti ed elastiche Caratteristiche La lana è un ottimo isolante termico, e a differenza di ogni altro tipo di fibra mantiene le sue capacità isolanti anche quando è bagnata La lana è naturalmente resistente all'acqua proprio grazie alle scaglie di cheratina e agli oli naturali presenti nel pelo degli animali È igroscopica Assorbe l'umidità per circa un terzo del suo peso e la struttura stessa delle fibre aiuta a mantenere quest'acqua sullo strato esterno del tessuto Le fibre intrecciate allontanano l'acqua dalla pelle e la depositano all'esterno del capo di abbigliamento Resistente agli odori e antimicrobica Igni fuga La lana è altamente resistente al fuoco perché ha una temperatura di combustione molto elevata Si infiltrisce dopo ripetuti lavaggi, le fibre si saldano, infittendo la massa Tipologie Dal vello degli ovini, esempio lana merinos, molto pregiata, proveniente soprattutto da allevamenti in Australia, Shetland Da caprini, moher, vello delle capre d'angora, in Turchia, Kashmir, capre degli altipiani freddi di Mongolia, Tibet e Iran Da camellidi, il cammello, dal sottopelo del dromedario africano e del cammello asiatico, la vigogna, l'alpaca, il lama, ricavata dal vello di questi animali che vivono sugli altopiani delle ande Lavorazione Tosatura Separazione del vello dal corpo dell'animale con tosatrice manuale o meccanica Cernita Dal vello intero si separa la lana delle spalle e dei fianchi, fine e lunga, della schiena, corta e ruvida, e del ventre, corta e debole Lavaggio della lana Con ripetuti lavaggi in acqua tiepida con sostanze sgrassanti e detergenti la lana viene pulita e sgrassata Dall'acqua sporca di scarico si estrae il grasso puro, l'anolina, impiegata nell'industria chimica e farmaceutica Asciugatura Effettuata con aria calda Cardatura e pettinatura Per il ciclo pettinato la lana subisce l'operazione di cardatura che consiste nel liberare dalle impurità, districare e rendere parallele le fibre tessili, al fine di permettere le successive operazioni di filatura Successivamente si ha la pettinatura che consiste nell'ordinare le fibre tessili dopo che sono state cardate Simboli Per pura lana si intende la presenza di lana all'interno del capo, con una tolleranza massima del 7,3% Per vergine invece si fa riferimento al fatto che viene utilizzata lana ditosa, quindi assolutamente naturale, non rigenerata e non recuperata da altre lavorazioni industriali La certificazione Woolmark dà quindi la garanzia di pura lana vergine biologica Misto lana vergine, indica la qualità dei tessuti con un contenuto di pura lana a fiocco almeno pari al 60%, 80% nel caso di abbigliamento intimo, mentre il rimanente è costituito da una sola fibra tessile Lana rigenerata o meccanica La lana rigenerata è lana che viene ottenuta tramite il riciclo di scarti di tessuto o di vecchi capi, che altrimenti sarebbero destinati alla discarica Sono prima raccolti i vecchi capi, che vengono suddivisi per materiale e per colore per poi iniziare a sfilacciarli Fibre artificiali Le fibre artificiali sono quelle fibre create con materiali di origine naturale miscelate a sostanze sintetiche Le fibre artificiali possono essere definite fibre di cellulosa, fibre cellulosiche, fibre di cellulosa rigenerata, fibre proteiche Sono leggere, inattaccabili dalle tarme, irrestringibili e si tingono facilmente Per contro si scoloriscono con facilità, si stropicciano e non sono molto resistenti Sono poco usate per gli abiti estivi, in quanto trattengono il calore e non sono molto assorbenti Fibre sintetiche Le fibre sintetiche sono quelle fibre prodotte utilizzando materiali derivati dal petrolio Sono flessibili, resistenti, leggere e resistenti a usura, alla loce, allo strappo, alle muffe, alle tarme, agli acidi I tessuti non si restringono, non si stropicciano e si evita la stiratura, il calore del ferro da stiro può danneggiarli Trattengono il calore e sono impermeabili, non consentendo una buona traspirazione della pelle Esempio Kevlar Tipi di armatura Tela È la più semplice Ogni filo della trama passa alternativamente sopra e sotto ogni filo dell'ordito Le tele sono molto resistenti e la loro struttura è usata per stoffe leggere ed estive I fili dell'ordito e della trama possono essere della stessa tinta o in due colori differenti In questo caso si ottiene una tela con un disegno a piccolissimi scacchi Saia L'armatura Saia è quella maggiormente impiegata nella produzione dei tessuti di lana e una delle più resistenti Il filo della trama passa sopra due o al massimo quattro fili dell'ordito Successivamente si sposta di un filo verso destra o sinistra, formando intersezioni diagonali che caratterizzano la struttura a intreccio Raso È quella nella quale i punti di intersezione fra trama e ordito sono ridotti al minimo indispensabile Il filo della trama passa sotto quattro o più fili dell'ordito in modo sfalsato, lasciando slegati i fili dell'ordito I tessuti con quest'armatura appaiono lisci e uniformi Leggi l'etichetta Ciclo in lavatrice A mano Temperatura dell'acqua Stiratura Avvertenze Asciugatura a tamburo rotativo Asciugatura all'aria Lavaggio a secco Candeggio Ripassa la mappa del capitolo Sporzare Ciclo in lavatrice Di soli Asciugatura all'aria Dopo Di soli Asciugatura all'aria Asciugatura all'aria